Siamo alla partenza da Sulmona, una piazza meravigliosa, operazioni preliminari prima dell'arrivo e un po' di relax in hospitality prima di una tappa impegnativa, secondo me oggi saremo in bici 4 ore, 4 ore e un quarto e dai, ha già detto credo tutto Elisa e niente, buona giornata e ci vediamo all'arrivo, un po' più stanchi ma contenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!